Allora ragazzi siamo i granass e siamo tornati qui incredibile con un nuovo video Siamo con un video su high girl all over High girl all over, più alto o più basso Esatto, questo quiz ci metterà Attenzione, video con alto contenuto di ritardo Davanti a due cose, cioè che ne so, ci dice più famoso Darryl o Xenic Quindi dobbiamo dire Xenic è più o meno famoso di Darryl Ovviamente la risposta esatta è Lower Quindi sarà così lo svolgimento di questo quiz Oggi non riesco a parlare Cos'è questo problema? Oggi Play game Great Leap Forward Non so cos'è O Al Kogan, chi è il più famoso? Al Kogan tutta la vita Ma dai, perché non conosce il grandissimo Great Leap Forward? Esatto No, Al Kogan 823.000 ricerche su Al Kogan Al Kogan oppure la palla a nuoto È più famosa Il mio telefono che squilla Molto più famoso, quello sì Secondo me è più famoso Al Kogan Infatti solo 60.000 Povera palla a nuoto È più famosa la palla a nuoto o il Senegal? Spero il Senegal Questa è una azione Una azione contro uno sport È più famoso il Senegal E infatti 300.000 Il Senegal O la Dipendenza da droghe Scusami un attimo Ma per tutti i pignoli Non è questione di famoso Ma di quante ricerche mensili ci stanno Va bene, ok Ma è per modo di dire Ok, ciao Comunque per me la droga La droga Viva la droga Tutta volta Sì, la droga Diciamo che 300.000 ricerche Sono solo le tue Quindi supererai il Senegal Sicuramente Droghe No, vaffanculo Ma come? Mazza che Mazza non ti ha contato 250.000 di perché che hai fatto? Che tossici, schifosi Occasionali proprio Singapore o rowing? Canottaggio Penso Singapore Cioè Che cazzo che fa canottaggio? Scusa 49.500 Cioè ma che cazzo Eh beh Vabbè è sicuramente L'iPhone è meno famoso Te lo mette pure nel Papa In confronto con l'iPhone Dai ma che è Qui in questo periodo Ci saranno milioni di ricerche Sull'iPhone 7 Perché sta per uscire Eh beh fatti Sei milioni e cento Ah l'iPhone 7 e l'Easter City Tu sai questa? No no Se la giocano secondo me Perché l'Easter ultimamente Col grande guardi Drag addiction Sì ma se tu ci pensi Ma sono soltanto L'Easter Ricerco Sono mondiali Mondiali Eh ok Nel mondo non penso che vanno A cercare l'Easter Siamo low guarda Però secondo me Si avvicina Avvicina l'Easter Non credo Ci arriva un milione massimo Guarda Ma che cazzo sta a dire? Eh già Oh ma 450.000 ricerche Sono bocca L'Easter oppure Whiplash Chi cazzo? Non lo so Sicuramente l'Easter penso Ma che cazzo è? Un milione e 830.000 Whiplash Chi è Whiplash? Non lo so Non ho capito Stiamo prendendo una figura Di me Toronto Film Festival Non ho idea Diteci che cazzo è Whiplash Eh vabbè Dai Beyoncé oppure un terremoto No il Tankstand earthquake Quello che c'è stata a Tankstand Che è uno dei più forti registrati al mondo Eh Mi sto inventando Cioè È Beyoncé comunque In ogni caso Lower Tutta la vita Queste sono le mani Quando vedono Beyoncé Vedo 2009 dai Sono le mani della gente E quando vedono Beyoncé Fanno l'Earthquake Eh sì Tutti insieme Orwell Io penso che soltanto Per ricerche che uno fa per scuola Orwell è più ricercato Sì E infatti 165.000 Per Orwell Il grande fratello Dell Rwanda Ma che era il film? Sì Penso sia più famoso The Orwell Spero de no Sì perché Avvino un film No ma lo faccio Sono coglione Sì È più famoso Il body building Weight lifting Che è No Sarebbe palestra Teressa in forma Credo Sullevamento pesi Oppure la gravidanza giovanile Però il sullevamento pesi Secondo me è molto più questo Tutte le bambinette del 2000 Che vanno a cercare O la sangria È colpa della sangria Se lo faccio rimasta in città Però C'è davvero C'è davvero L'avventamento Non lo avevo così Perfetto Fantastico Però secondo me la sangria È più famosa È più famosa È più famosa sicuramente Dai Porca troia Tresessi Eh no no Tailandia o Tailandia Talanda o La sangria È più famosa La sangria Dove è Talandia Sì Ma porco due Ma ciò che andano tutti In Talandia Che c'è in Talandia È bellissima la Talandia Virgin Atlantic Oh Apple Porca troia Dai ma che è C'è da chiedelo Virgin Atlantic tutta la vita Ma chi è Virgin Atlantic Oddio C'è la gente cerca solo Apple Su Google Sì infatti c'è Guardate il Vietnam Non penso ci sia qua proprio Da Vaffanculo Eh Anche sì comunque Los Angeles o Breeze Perché non ci stanno le tette però Perché sono censurate Eh no Dai penso che non ci sta manco da Ma che Ma la gente non sta bene Ma dai su Ma no No faccio Mi faccio cercare più Los Angeles Che te 50.000 riflessioni Sono le mie Dai cazzo W o Cash of Clans Davide Davide Secondo me Cash of Clans Davide Davide Eh Però Cash of Clans C'è tipo 10 milioni Detonclood Oh Dio È pari È pari È pari proprio Quindi pure se mettevi lower Era uguale Sì Clash of Clans O Bob Dylan Eh vabbè Bob Dylan ha male passato C'è cazzo mio C'è non penso che possa mai superare Mi dispiace per Bob Dylan Oh carca saliva E' NASA Bob Dylan Oddio è difficile che Qualcuno Nasa fidate Lo sai che è difficile Qualcuno cerca Nasa Io si Ti Stai zitto Volevi eh Aurora boreale o Nasa Aurora boreale Aurora boreale o bai Ma stai scherzando Sono i giardini più belli al mondo Lover 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 Più basso Lover Guarda Unmila e qua c'è nessuno Ha cercato io mamma Da te Ma che è giocchieggio Oh mazza che c'è no ti prego devi sta zitto perchè chi segue il tennis ammazza Io non seguo il tennis E' tipo il tenista più famoso della storia Quindi forse sarà Highgore Penso proprio di sì Io non seguo il tennis mi fa rate Ho pure giocato un po' Oh Shanks e Earthquake Eh questo pure è stato tosto Ho ricordo come se fosse ieri eh Eh sì Porca droia Mazza non su un culavo nessuno sto terremoto Bruno Mars Secondo me è Shanks e Earthquake Sono Shanks Sì Sì Sopravvoliamo Ok Oh Subway No Bruno Mars Bruno Mars Bruno Mars Spero che ti disini Unlucky I'm Quindi Superman o Lionel Messi Cioè ma c'è da chiederlo Uh pari O Rihanna Rihanna penso sia molto di più Sì 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 Rihanna sì Questa faccia Messi non si può permettere Deve essere più famoso di Rihanna Cioè Beh beh che pure Rihanna su sta foto Non è che sia il massimo Vabbè però Rihanna è Rihanna 5 milioni per riardire La mister Rihanna Mister D'ora tutto Che l'oroscopo Malleva l'oroscopo Dai Rihanna Rihanna Iiii Ma porco Il mio Glavory Lover Dai Albertino Vince sempre lui È grande Eh vabbè Il football È per quello dopo È pure più facile Guarda Eh no Ecco Ecco Un botto Un wishat Un wishat Un wishat Tutti i cinesi che la usano Ma no Ho sbagliato Quello mettero Dio È stato difficile Non era semplice Veramente L'ho provato Comunque Ragazzi Dite se avete fatto più di noi Sicuramente Perché nove Non è tantissimo Anche se quello ci ha detto Ci ha fatto l'applauso Sì ci ha fatto l'applauso Ha detto Stai nel top 10% Dei giocatori Allora ci ha fatto l'applauso Ma che cazzo stavo a dire Allora diteci se avete fatto più di noi Se vi è piaciuto questo video Lasciamo 5000 like E noi ci becchiamo Come sempre Al prossimo video Da Granasi è tutto Andate in pace Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti